Cssssh! Ragazzi, oggi facciamo uno scherzone a cripta! Le faremo vedere di cosa è capace Albany il Noioso. Ora ci nascondiamo nel suo armadio e appena entra, saltiamo fuori e le facciamo prendere un bello... No! Esiste un posto dove possa esercitarmi in pace? Eccomi di nuovo, amici. Sono qui con Macabro che ci aiuterà con il nostro super scherzone. Sotto sotto ha un animo irriverente e pazzerello. Cssssh! Deve essere lei! Ragazzi, sarà pazzesco! Cosa state facendo?! Ok, falso allarme, ma ora abbiamo una nuova complice! Lo scherzone sarà super evico! Non è un vero scherzo senza scossa! Quel trombone deve stare per forza qui! L'estrema scomodità è una forma di catarsi! E le buone notizie non sono finite! Ho sistemato una camera nascosta, così non vi perderete la faccia di cripta! Pensi che ci vorrà molto? Tranquilla, sarà questione di minuti! Posso suonare un po'? No! Ok, amici, siamo qui da 5 minuti e ancora nessuna traccia di cripta, ma noi siamo pronti! Ancora niente cripta, ma... Ci siamo quasi! Arrivo, arrivo, sentite! Ah, falso allarme! Aspetta cosa! Siamo qua da 2 ore! Eccola, ci siamo! Ragazzi, state pronti? Ah, eccovi, è tutto il giorno che vi cerco! Non posso credere che ho passato il pomeriggio chiusa in un armadio per lo scherzo meno riuscito della storia! Io ho sacrificato lo sviluppo del mio talento musicale per questo! Ve l'ho fatta, eh! Vi ho fatto perdere il pomeriggio! Scherzone riuscito! Piaciuto lo scherzone? E allora non dimenticate... Aaaaaaah!